Buonasera a tutti ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon E ragazzi alla fine mi hanno troviato e sto facendo anche la Pixelmon Di fianco a me ci sono due SP che sono Danny Lion e Dade SP Tuanone No vabbè ragazzi è un bug grafico della 1710 eccetera eccetera Lo sapete a tutti non stucate il cazzo Siamo nella serie con Charlie e la bella gente Varia E se sapete bene le regole ogni team doveva avere uno starter Noi siamo il quarto team E dato che i Pokémon hanno tre tipi noi avremo un Pokémon special E infatti adesso li vedrete direttamente Noi siamo dei bambini speciali Stiamo speciali Com'è che era Slash Poké Give? Comunque il primo episodio ragazzi lo troverete su tutti e tre i canali Quindi vi lascerei in descrizione il link di Danny e quello di Dade Esatto 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 E iscrivetevi ai loro canali perché penso che faremo un livello diverso ogni volta Vai Oh 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 Anche io voglio sapere il nome ragazzi Come si chiama? Slash Poké Give è staccato il nome del Pokémon E come si chiamava il mio Pokémon? Gollet Meot si scrive M-E-O-T No Poké Give ma da March Oddio come si scrive Meo? Ah ok ho sbagliato Meo ok Ma da March Meiuscolo Gollet is not Vedi chi era con due l mi sa? Ah devo mettere anche il mio nome Invali? Ah no devi mettere pure il tuo nome Eh si Ok Oh ce l'ho Ce l'ho il mio Gollet Livello 13 Attenzione Come livello 13? Eh vabbè noi portiamo avvantaggiati sti ragazzi Come si scrive Meo ragazzi? Si 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 Come si scrive Meo? Comunque ragazzi dovete sapere che adesso rivederemo il nostro U C'è un problema C'è un problema Non c'è Meo? Eh io l'Humpent l'ho avuto al 42 No Toglitelo Ma come si Si scrive Meo? Ah spero ma io mi sto dall'Humpent L'Humpent Ah io mi do dall'Humpent Non l'Humpent Ma so proprio coglione So proprio coglione E io sta parte non la taglierò Ma farò sentire La tua deficientagge Ma no io la toglia ma lenta 6 livello 6 L'Humpent Ma che pokemon ci sono? Ma io voglio un pokemon figo Eccans Che marda è Eccans Eh no mi dispiace Tu sei Eccans Perché sei uno del team Rocket Ok questo qui adesso Metto un attimo io in creative Ve lo spacco Game 1 Ok Ok ragazzi Adesso andremo a cercare un centro pokemon Perché noi può Esatto E io con il mio Gollet 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 Io volevo solo dire Oh c'è un bambino speciale che ci insegue Che cazzo è? No scappiamo Oddio che paura Vai via Io volevo solo dire Che questa sul mio canale È un grandissimo ritorno incredibile Perché avevo detto Che non ci sarebbe Non ci sarebbe Mentre stata una pixelmon E invece Eccola A me invece me l'avete chiesto E lo sto facendo Senza Senza che guarda Cosa? Sì Ok Dove è il centro pokemon? Eh Boh Ah non lo sai? Come non lo sai? C'è un slowpoke Che bellino Che sai Loro che sai No ragazzi Dobbiamo cercherci più pokemon possibili Magico Ci prendiamo Ah comunque ovviamente Penso che questo sia l'unico episodio Che sia uguale per tutti e tre Eh l'ho detto Lo abbia detto io Ma ragazzi dove sei Ma io lo voglio dire pure io Ti sto seguendo Mi stiamo stoccherando Come un pro della morte Oh c'è musica Oh oh L'ho preso No ma io ne ho un sacco nell'inventario Black apricorn Ah Sinceramente non mi ricordo Capricorn No ragazzi battaglia No Lo picchi a pugni Cos'è? Aspetta No ragazzi non so le mosse Astonish che vuol dire Astonish No Astonish è una città Come cazzo si chiamava Non so cosa stia facendo io Non so un cazzo Date Non mi ricordo C'è uno strineck Non so cosa fare Uno stunterer Che bello Aspetta non so le mosse Lo posso inculare In inglese non mi ricordo le mosse Astonish è Oddio non mi ricordo Come cazzo si chiama Dead no effect Defense Non posso far niente Ok va bene Mi hanno capito che facciamo così Run Scappa e andiamo Non posso Non posso Ok sono scappato Si è scappato Si è scappato Che bello Scappa No Mi sto inculando Ok sono scappato Scappa scappa Via Sali sei di qua Direi dentro del centro pokemon L'ho trovato Che culo di merda L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato Pg8 deve essere mio Oh qui si entra Io so dentro Bella Anch'io E cosa facciamo qua Pg8 Vabbè con questi qui Sicuro fai il tasto destro Bravo Che cazzo è un apricorn Ok l'ho preso È quello che apre le corna Apricorn Oh ma spai Ma io ho una nest ball Io vado a catturare qualcuno Che cazzo è un trade machine Anch'io Ma aspetta Aspetta Non mi ricordo dove si prendevano Le poke Com'è che facciamo a craftarle Oh io ho catturato Sto a catturare un pg8 Aspetta Ma 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 come Devi dirmi come si fa a fare pokeball Io non avere mai giocato No vabbè noi Lo faremo durante la serie Perché Siamo Oh c'è anche Charlie Ciao Charlie Saluta Yt Yt sta per Young R Yt Esatto Ok ragazzi Dobbiamo prenderci un po' di Facciamoci una mini casetta Almeno Scusa ma È la intro Perché devi fare tutta sta roba No raga Ma non c'è tipo la mappa Dovremmo aggiungerla in realtà Io voglio la pokemappa Mi ha picchiato Oh vedo Mi sta facendo Cosa sta Cosa ho paura di Charlie Oh ma ci sta minando Mi ha fatto tre cuori Alla kill Laura Aiuto Aiuto Charlie E' l'immun Vabbè direi che Comunque Perché Oh Che è un lapras Volo picchio il lapras A pugni Io ho io un bill Esiste un pokemon che si chiama bill Dai io voglio Io voglio bill Come si fanno a tirare le pokeball Con la R Con la R Vai Scelgo te Ekans Ma che brutto sei Ma che brutto sei Ma vattene via Non ti voglio vedere Vabbè lo rivoglio Vai Scelgo te Ekans Atacchiamo la città Ma è bellissimo Sì ma il mio è più bello Cos'è Questi qua c'hanno Infernape Che bello è Infernape No vabbè Abbiamo capito Che qui bisogna nerdare Come le bestie Cosa vuole Per chi fare Contro mio Contro mio Gollet Gollet Ragazzi ho preso Dai Ragazzi È una merda Dani Esatto Marci ma io direi Che tipo basta così E in set stavo dicendo Ragazzi Per questo video è tutto Se arriviamo A 2500 mi piace Però in totale In totale Tutte e tre i video Ok No in totale In tutto e tre i video Dobbiamo arrivare a mille Ragazzi Ce la facciamo Infatti si Ok 350 Dai ragazzi Sappiamo che questo inizio Vi piacerò tantissimo Perché noi siamo Il team rocket Quindi ragazzi Noi siamo il team rocket E con il vostro E con il cuore E noi Ci vediamo In un prossimo video E che lo sai Ciao 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 a tutti Ciao Ciao Marti Ciao Ciao Ciao